In Francia il governo prolunga lo stato di emergenza per il coronavirus, mentre in Spagna da oggi strade riaperte anche ad anziani, runners e ciclisti, ma con fasce orarie differenziate. Ci spiega tutto in diretta il nostro inviato Gianmarco Sicuro. Gianmarco. E ve li faccio vedere i runner e soprattutto i tantissimi spagnoli che affollano le vie di Madrid. Quello laggiù è il Santiago Bernabeu. Le vedete insomma tutte queste persone in strada. Sono moltissime perché questa è la fascia oraria in cui si può praticare sport individuale e succede dalle 20 alle 23. Quindi in questa fascia oraria lo si può fare anche al mattino tra le 6 e le 10. Questo lo ha deciso il governo che ha deciso anche di poter far uscire gli anziani tra le 10 e le 12 e tra le 12 e le 19 i bambini. Oggi ha parlato il premier Pedro Sanchez spiegando proprio questa divisione in fasce orarie ed ha annunciato un piano da 16 miliardi da destinare alle regioni autonome per uscire dalla crisi. Poi si è rivolto alle opposizioni e ha detto chiediamo un appoggio al prolungamento dello stato di allarme che andrà avanti, quindi probabilmente oltre il 9 di maggio. Non abbiamo un piano B, non è un capriccio quello dello stato di allarme. Dobbiamo proseguire su questa linea per contenere i contagi. Oggi in Spagna si sono superati 25 mila morti. La linea allo studio.